Viaggia col possesso, trova bene Dzeko subito da Barella in area, dall'altra parte dove c'è Di Marco! Il gol che sognava fin da bambino, Federico Di Marco, apre lui il derby! Azione bellissima dell'Inter in ripartenza, sfrutta gli spazi lasciati dal Milan, bellissimo l'appoggio di Dzeko, molto bravo, anche Barella, Di Marco arriva in corsa e fa 1-0. Leao, palla che passa, Giroud, è partito Brahim Dias, a terra c'è la Nolo, Leao, c'è spazio, può andare, Leao, siamo in area, Leao calcia, Onana in calcio d'angolo. Dzeko può andare contro Tonali, Dzeko una finta, Dzeko! Cosa ha fatto Edin Dzeko? Un gol da Paradiso, Eden Dzeko 2-0! Ma come si è liberato di Sandro Tonali, giocata sopraffina del 9 dell'Inter, che è 2-0! Di Marco col cross Lautaro non c'era, deviazione di Dzeko, è riuscito lui a calciare verso la porta di Tatarugiano, l'ha deviata Tomori, bravissimo qui, Tatarugiano! Va da solo Ben Asser, Brahim Dias! C'è spazio per il Milan e per Leao! Contro a Cerbi, Leao, dribbling, Leao! Grande chance per Rafa Leao! Che non trova la porta! Cercato intanto Lautaro, palla che passa in area, Lautaro, Lautaro! Con l'esterno, con bellezza, con classe! Va a mostrare ai suoi tifosi la 10 con la scritta Lautaro! Quando vive questi periodi è ingiocabile 3-0 Inter! Conclude con bellezza, con finezza, il Toro per il 3-0! Benassert!